Oggi toccheremo un argomento di quelli scottanti, perché ci porta dritto dritto al benaltrismo. Il benaltrismo è l'argomento principe degli incapaci, degli sfigati e perdenti, chiamati dalla serie B, cioè degli altri, non di noi. Perché ogni volta che si tocca un argomento in cui uno sa di avere torto, è così incapace, così perdente, che piuttosto che essere onesto, prima di tutto con se stesso e poi con gli altri, dire, e beh sì è vero, l'ho fatto, non andava fatto, d'ora in poi faccio ammenda e d'ora in poi non faccio più, tira fuori il benaltri sono i problemi, oppure che ancora peggio, chi non l'ha fatto mai almeno una volta. Allora, quello di cui sto parlando è una cosa così grave, così importante, che esistono persone, io le conosco personalmente, a iniziare a sottoscritto, che invece non l'hanno mai fatto e non si fa una cosa che non si fa, ma purtroppo ci sono i perdenti, gli incapaci che lo fanno e allora è un atteggiamento che va stigmatizzato, ma procediamo per ordine. L'argomento è questo, i bambini che viaggiano sulle automobili, per qualche riguardo i caravanisti, sui camper, per qualche riguardo i camperisti, senza avere la cintura di sicurezza allacciata. Allora, parlo agli uomini o presunti tali, perché esiste l'uomo ed esiste il bamboccione, allora io spero di rivolgermi agli uomini. Mi rivolgo ai padri di famiglia o presunti tali, perché la legge dice che uno come padre di famiglia ha degli obblighi, uno di quelli è quello di conservare in salute la propria famiglia. Bene, chi non allaccia le cinture ai figli durante i viaggi che fa, non importa il mezzo di raccomandazione, è un perdente, è uno a cui mi auguro, come si fa in altre nazioni, che anche in Italia, prima o poi, venga tolta la patria potestà, perché significa che è così incapace, così perdente, così inutile come uomo e come padre, che preferisce, piuttosto che affrontare la situazione, prenderla di petto e dire no, ho delle responsabilità civile, penali, ma anche etiche soprattutto, e morali, che sono forse addirittura più importanti alla legge, che mi assumo le mie responsabilità perché sono una persona adulta, da adulto mi assumo le mie responsabilità e voi viaggiate come si deve con le cinture di sicurezza. No, questi sono lì tutti impauriti perché sono dei bambini, sono loro stessi dei bambini, non sono capaci di fare gli uomini, di assumersi da padri le proprie responsabilità e poi lo si vede, perché poi è inutile. Cioè, pensare che dei figli, in auto o nel camper, mentre si viaggia, siano un problema per cui si mette avanti un televisore, per esempio, invece no, sono una risorsa, è divertentissimo, è bellissimo, ma uno che pensa di avere dei problemi e non li ribalta, non trova il sistema per farli diventare delle risorse, ma si limita al problema, per cui scappa dalle sue responsabilità. Cioè, per favore, allora, se voi siete dei bamboccioni, se voi viaggiate con in macchina i figli, senza lacciargli le cinture di sicurezza, aria, via, il settore è ampio, è grosso, andate su altri siti, andate su altri fori, andate dove volete, a parlare del ben altri, ben altri sono i problemi, non l'ho mai fatto. Ecco, allora, via, aria, su, quei cinque perdenti non li vogliamo, vogliamo i 500.000 vincenti che invece non l'hanno mai fatto e non lo fanno. Ultima cosa, un appello alla Confedercampeggio, all'Actitalia, a Luca, a Unione Club Amici, siete federazioni, benissimo, puntate i diritti dei camperissi, sì, bene, puntiamo anche i doveri. Allora, io vi sfido, vi chiedo, per favore, per una volta, di puntare i doveri. Io voglio, pretendo, esigo, che voi vi fiacciate promotori, almeno una di queste tre, non dico tutte e tre perché forse ci vorrebbe troppo cervello, ci sarà sicuramente il coniglio che scappa e forse sappiamo anche il nome e cognome del coniglio che scappa, ma almeno sappiamo anche che c'è gente seria. Allora, gradirei, per favore, che vi faceste promotore nella prossima legislatura, perché adesso è una cosa ridicola, ma nella prossima legislatura io voglio che facciamo un progetto di legge, togliere la patria potestà a tutti i padri, padri, bamboccioni, che si vengono beccati col camper o con l'auto, in cui sopra ci sono i figli, senza le citture di sicurezza allacciate. E così ci diamo un passo bello veloce verso la civiltà, facciamo vedere chi sono i genitori, chi sono i padri e chi sono i perdenti. Via, aria. Questa volta cominciamo il dato blu. Ciao!